Il piano Mattei deve servirci ad avvicinare l'Africa a noi, Italia, a noi Europa, ma le imprese saranno protagoniste, anche loro, con accordi vincenti sia per le imprese africane sia per le imprese italiane. Ecco, questo è il punto politico. La diplomazia della crescita è la chiave di volta della nostra azione, perché altrimenti sarebbe inutile fare tanti sacrifici, mandare i nostri uomini in uniforme in giro per il mondo, avere tanti sedi di diplomatico dove magari anche per voi è difficile operare per le condizioni complicate che ci sono. E voglio ringraziare ancora una volta tutti i diplomatici che si sono impegnati in questa stagione di crisi in Africa e Medio Oriente, in Turchia, in momenti veramente difficili. Ma dobbiamo mettere questo a frutto. Tutto ciò che noi facciamo in politica estera deve portare dei benefici all'Italia. Più contiamo nel mondo, più siamo determinanti nel mondo, più siamo importanti nel mondo, più il nostro sistema economico ne può trarre beneficio.